Fere, lo sai che quest'oggi dobbiamo gareggiare, vero? Lo so, un po' di ansia, Steph, un po' di ansia Anche io, anche io, chi hai preparato per questo oggi, Fere? Lo vuoi vedere? Sì, fammi vedere, fammi vedere Allora, spostati, Steph Perché? C'è stato un piccolo disguido Ok Io dovevo cercare un Pokémon per correre a terra Sì, certo E ho trovato solo lui, così grande Fere, ma è un titano, non è un cavallo Ho girato per due ore e c'era solo lui, non ho potuto fare altro, Steph Mi dispiace, ma gareggerò con lui Ma è troppo gigante, non so neanche se vale Ma è la gara, che ti devo dire Io ho ovviamente lui, che sì, effettivamente è grande anche il mio, ma non quanto il tuo È più contenuto Tu hai esagerato proprio E ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki E sono Steph, che si giocava a Minecraft Benvenuti in un nuovissimo episodio della Pixelmon Dove oggi io e Steph affronteremo una gara terrestre Che ovviamente si svolgerà tra i due team I team Elfi e il team Ren Esattamente A quanto pare abbiamo anche una responsabilità incredibile Dato che noi siamo in vantaggio di un solo punto come team E di conseguenza la nostra galassera Noi siamo gli Elfi Totalmente fondamentale Siamo nel team Elfi e siamo in vantaggio di un punto Quindi è una sfida davvero importante per la vittoria del nostro team Speriamo bene, Fere Siamo praticamente pronti Però prima di iniziare e andare a fare la gara Dobbiamo fare un pochettino di cose Io ho notato, prima di tutto, che ce l'ho lasciato alcuni regalini vicino a casa Esatto, ho notato anch'io Non so se ci hai fatto caso Allora, la cesta dovrebbe avercela lasciata a Mark Esatto Mentre la scatola mi sa che l'ha lasciata a Tech Non ne sono sicura Vabbè, vediamo cosa c'è Ok, comunque c'è una Woodmail e una Rare Candy Se ti ricordi la caramella rara era quella che ti avevo dato io l'altra volta Allora, invece qui Allora, sì, 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 ti leggo Ti leggo perché ovviamente l'email è scritta Allora, cara Fere, tanti auguri di Buon Natale Tech Quindi qui ce l'ha lasciata a Tech È molto carina Anche perché è troppo bellina come è fatta Apri poi anche la tua Ma che bellina Io sto aprendo quella di Mark che è la tua però Oh no, 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 aspetta Dammela Ero curioso Ciao Steff e Fere Vi lascio questa lettera per dirvi Soltanto che come regalo di Natale vi regalerò un Pokémon a vostro Cosa? Fere Ho letto quello che ho letto Oh mio Dio Ci regala un Pokémon Allora, in questo momento ti dico che Mark è diventato il mio migliore amico Quindi Mark, se stai guardando questo video, sei il mio migliore amico per sempre Io ho già deciso Per sempre saremo un migliore amico e a vita Shiter, 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 voglio Shiter Io non l'ho deciso Quindi ho deciso Ci devo pensare un po' Ci devo pensare Dammi l'email che è mia, scusami Tieni, tieni Invece le mie sono qua, quindi vado a prendermi le mie È troppo bellino quei cuoricini Lo so, è fantastica Allora, uno, due E infatti qua Caro Steff, tanti auguri, buon Natale e Tec Grazie mille E invece l'altra lettera Dov'è? Non mi ricordo più dov'era Aspetta Ah no, ok Quella di Mark l'ha lasciata a casa tua per entrambi È per tutti e due, certo È per tutti e due Ti volevo anche far vedere una cosa E poi andiamo a gareggiare a Fere perché dobbiamo entrare Cioè ci dobbiamo concentrare prima della gara Sì, ci stiamo concentrando tanto Stiamo già pensando ad altri Pokémon qui Fatti regalare un Pokémon che corre un sacco Così vinciamo la gara Comunque stavo dicendo Che ti volevo far vedere Che Tec ha fatto un sentiero tra i boschi carinissimo Che porta direttamente alla sua casetta Seguila e guarda che bellino È troppo carino Ha tagliato anche tutti gli armi Guarda, guarda, guarda Continua a seguirlo, continua a seguirlo E arriviamo fino alla sua casa Guarda Bellina, no ma la sua casa è adorabile È davvero adorabile A me piace un sacco No, guarda le decorazioni che ho messo di Natale In alto, le vedi? È vero Le ghirlande che ho messo Io voglio vederla anche dentro Andiamo, andiamo a fare un tour Vado a sbirciare, troppo carina Ci ha invitato Allora, ok Guarda il caminetto con la calza C'è troppo bello Cavolo Ma le nostre case fanno schifo a confronto La tua fa schifo La mia è bella Anche la tua fa schifo La mia è bella, è un cupcake Che bellino questo elfo Ci sta benissimo Siete pronti a gareggiare Nella gara più spericolata di sempre? Sì Relativamente Secondo me voi non siete pronti Il mio Pokémon però È probabile Che ancora non l'abbiamo visto Però ce lo fai vedere dopo Io dopo ho un pochino paura Non mostrarcelo ancora Sono preoccupato Ma lo voglio vedere dopo Allora Faccio vedere un attimino Cosa tutto dobbiamo superare Abbiamo una sorta di Trappola costante Con dei buchi dove possiamo cadere E affogare Dopodiché Un pezzo super mega fine Che con il ghiaccio scivoloso Non è per nulla semplice da superare Un bel po' di ostacoli Con la neve Che dobbiamo schivare Per andare il più veloce possibile E poi delle buche enormi Abbastanza pericolose Che portano Alla cascata finale Che è tipo Una roba gigantesca Dove se si sbaglia il salto Si può far morire Il proprio Pokémon E rimanere a piedi Quindi bisogna stare Un attimino attenti anche a quello E poi ovviamente Qua c'è il traguardo Inoltre è pieno di Pokémon in giro Che danno un po' di fastidio Dovremmo pensare a schivare Anche quelli tutto il tempo Ti fanno cadere quelli Allora volete mostrare I vostri Pokémon per partire? Eren ne l'ha già mostrato Fere facci vedere un pochettino Allora il mio è uscito Un po' troppo grande Quindi purtroppo Ma andate mai Non aveva una roba Piccolino Fere Non è colpa mia C'era solo lui E quindi mi è capitato Un titano Mark Per forza Sì Devo Ragazzi Vai Diamo l'ignoranza Non ci credo Non ci credo Ne vogliamo parlare? Ragazzi Ma cosa stai facendo? Non sei in ping veo Cioè non è possibile Da cavalcare qualcosa Gli stai sulle spalle Non lo so Ma riesci a correre? Ma è in grado di correre? Guarda Facci vedere un po' Guarda che bello che è Allora Raga Io vado ciao Ok E beh corre 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 Ragazzi va tantissimo sbaglio Che cosa sto vedendo Marco È la cosa più brutta di sempre È troppo bello dai Gara numero uno Allora Vince chi arriva prima A tre vittorie come team Quindi io e Fere Versus Eren e Mark Allora Questa qua è la gara numero uno Siamo tutti pronti? Sì Ok Faccio un 3-2-1 Aiuta 3 2 1 Via Via Andiamo Via Corri Guarda Mark Marco È veloce È veloce Ok E non è caduto Fere 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 Sta vincendo Mark Corri Aiuto 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 Recuperiamolo Recuperiamolo Io mi sto incastrando ovunque È troppo grande Mi sa che ce l'ha fatta Ursaring Ursaring Ma non è possibile Ciao Fere Quando vuoi Io arrivo a nuoto Tra due anni Guarda stava arrivando a erano a nuoto Mentre che ci vedevi tu Vabbè 1-0 per loro Fere C'è un mega meta grossa Alla fine del tracciato Oh mio Dio Oh mio Dio E scrivere quello è un problema Dai che ci fa Quello sì Ok Siamo pronti? Sì Vai 3 2 1 Via 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 Vai Ursaring Marco sei velocissimo La curva Uuuuh È caduto No Ha fatto cadere No Steph Mi hai fatto cadere No ragazzi Non potete capire Non potete capire No L'hanno vinta loro Questa volta ho sfruttato la stazza io Mamma mia Ha un pokemon enorme Dove fai? Io mi sto in Ferrari Gator A passare il mio fianco A buttarmi giù Ci ho tagliato Totalmente la curva Me la pagherai Steph Questo non si fa Ma non era voluto Io stavo correndo troppo Mi sono reso conto Che sarei andato dritto Ho sterzato E ti ho chiuso la strada Beh d'altronde Un ursino in piccolino Non si nota Eh sì Stiamo giocando agli autoscontri Sì Più che una gara Un autoscontro Sì sì È diventata una roba pericolosissima Ti sto guardando male Guardami Sì sì Anch'io Sto guardando malissimo Sì sì Va bene va bene Stai preoccupato? No anzi Me la son sediata bene Questa tua mossa Ok va bene va bene Adesso vanno tutti e due Contra di te Ti buttano giù Te lo dico Io potrei fare Siamo pronti Andiamo 3 2 1 Via Ok Partito un anno dopo Stavolta Ok buono No mi si è girato il pokemon No Sì Fere giù Fere giù No Fere No sono caduto anch'io No Aiuto No sono caduto anch'io Nei buchi finale No Ce l'ho fatta Ci hanno fatto una rimonta incredibile Questo Cos'è successo? Io non ho visto niente Tu sei caduta come sempre No io è la prima volta che cado che vuoi È la prima volta che casco sotto Io non sono mai arrivato No no Simo c'è quel frelligator lì che ci frega ogni volta Io farei che se non riesce a finire una volta la gara prende un punto extra Eccomi Comunque sei arrivato secondo Sapino Perché gli altri non sono ancora arrivati Alla prossima Prima Mi sto migliorando Ok Mark è arrivato Fere C'è quel blastoise davanti all'ingresso del tunnel Che fa il gran tuo cielo Ce lo fanno apposta I più grossi Non si credo Si messi là davanti Lo fanno apposta Ma proprio lì deve stare Già io sono enorme non passo Se più mi ci metti quelle cose Poi là Andiamo Vabbè Sì Vai ci siamo Lo prendo in pieno lo so già 3 2 1 Via Ok Via Ok Mi sono già incasso Sono davanti Sono davanti Vai Permesso No No Ok Sono passato Sono passato Vai Andiamo 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 Aiuto Aiuto Non ci passa Sono caduto Oddio 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 L'ho detto L'ho detto Che miglioravo Ce l'ho fatto Sì Yes Sì 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 Abbiamo fatto cadere Steph Nel momento perfetto Nell'ingorgo Sì perché C'è quel blast of noise Dai Steph è arrivato a Feri Guarda mi sto nuotando Ho sbagliato a prendere un pokemon Troppo grande È stato un debuff alla fine È troppo grande Non ci passa E si cassa nei pokemon piccoli Ma infatti anch'io lo avevo Poi l'ho guardato Ho detto È infatti È stata una buona Cioè in questo momento siamo 2 a 2 Sì 2 a 2 2 a 2 Però io ho un piano per l'ultima Dato che Feri non riesce a vincere E la saluterò in altri modi Che vuoi da me Capita Feri Che vuoi Metteranno la sbarra Eh più o meno Cercherò di controbattere Marco Va bene E quindi sarà un 1-1 Più o meno I velocisti contro le barriere Prontissimi Ci giochiamo tutto qui Siete pronti? Feri le capite la tattica Sì Più o meno Ma non riuscirò a farla Perché sto troppo lento Ok pronti Vai Speriamo 2 1 Via Corri 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 Sto cercando Di spingerlo Ma è troppo grande Sofferto No No Sono rimasto solo io No Sei vero Vai Fere vai Fere vai Fere vai Fere Mi mette le ansia che cade Non mi mette le ansia che cade Feri corri Sto ruotando velocissimo Corri Feri Mi lancio giù Corri No Ce l'ha fatta Non ci credo Siamo caduti tutti Che triste sta vittoria No Io non ci credo Io quinto dalla pizza Ma dalla serie Abbiamo voluto a tutti i costi Litigare E poi è finito così Non ci credo Mi ho visto cadere tutto Vabbè io ci provo Ho fatto la curva Ce l'ho fatta E sono andato a dritto Ma il problema Il problema è scioltezza Ursaring si è emozionato Era primissimo Ve lo giuro Ma io ho visto Che ho visto Forse Eren è caduto per primo E io l'ho seguito proprio perfetto Sì Perché c'era la curva Io proprio sono entrato diretto Nel tuo fianco E l'ho buttato di sotto E poi sono caduto Sì sì Infatti siamo anche Non ti appicco noi Ragazzi Lasciateci un like E' stata la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi per non perderevi Gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao